Manzanese Parita anche vibrante secondo me è chiaro che dovevamo chiuderla prima adesso non siamo precisissimi e siamo dispiaciuti per questo Hai la sensazione di aver raccolto meno di quanto avresti meritato in queste ultime due giornate? Più che sensazione è una grande certezza perché quando crei talmente di più degli avversari ci rimani male fondamentalmente perché le partite sono spesso anche oggettive e non soggettive e dunque si riparte Si riparte, mercoledì un'altra partita importante in casa i gol torneranno Le partite adesso sono tutte importanti proprio molto importanti per la classifica per tutto insomma sarei preoccupato se la squadra non sviluppasse quello che ha sviluppato perché anche oggi ha fatto una grande partita io non sono convinto di questo per spirito, per atteggiamento, per occasioni basta, nel suo momento è un po' così ma deve passare